Una gara podistica di 9 chilometri tutta nel centro della città che porterà per tre passaggi podisti e maratoneti nel cuore del centro storico. È il modo in cui Eboli ricorda Sergio Fiorillo. La gara, che vuole lanciare un messaggio di solidarietà attraverso l'atto della donazione del sangue, partirà domenica mattina alle ore 9.30 da Piazza della Repubblica e si snoderà per 9 chilometri. Un evento tra sport, ricordo e solidarietà, ha detto il primo cittadino di Eboli, Massimo Cariello, che rappresenta un'occasione per tutti di ammirare la bellezza della nostra città, senza dimenticare il valore della donazione del sangue.